Musica Ben ritrovati all'appuntamento con 45 Giri oggi è tornato a trovarci Massimo Vagnoni il consigliere comunale di Progetto Comune a Martinsicuro nonché anche consigliere provinciale della provincia di Teramo oggi però focalizzeremo l'attenzione principalmente sulle problematiche della città truentina di Martinsicuro alla luce anche delle recenti note stampa c'è stato anche un batte e ribatti una nota stampa in cui avete focalizzato questi obiettivi 2016 della giunta Camaioni e avete criticato duramente il primo cittadino partiamo proprio da questo Buongiorno a tutti innanzitutto noi abbiamo fatto una nota come forse consigliare di minoranza che voleva essere un attimo una considerazione a quasi quattro anni dall'inizio di mandato di quelli che erano gli obiettivi che venivano nuovamente annunciati abbiamo ritrovati uguali a quelli degli anni precedenti abbiamo tratto una conclusione che era quella di una città che comunque sia non si muove da quelle che erano le vecchie programmazioni questi anni ci hanno dimostrato che quello che avevano raccontato sull'assenza di programmazione nelle amministrazioni passate non era vero se vediamo che le più grandi opere pubbliche che sono realizzate in questi anni parlo del sottopasso di Via Colombo parlo dell'intervento sull'evoluzione corsiera a Martinsicuro di 3 milioni di euro e tante altre realtà sono oggetto di programmazioni dell'amministrazione passata purtroppo questa nota come spesso capita insomma lo posso anche capire è stato oggetto chiaramente di non condivisione da parte dell'attuale maggioranza ma quella voleva essere e sarà nella nostra attività di consigliatura che rimane attività di stimolo soprattutto di richiesta di confronto sui temi e sulla necessità di dare delle risposte a delle tante esigenze, delle tante criticità che la nostra città ancora ha partiamo proprio dai punti dagli obiettivi dell'amministrazione che si è data perché voi avete criticato proprio questi obiettivi dopo che il sindaco li aveva tracciati quindi bilancio e partecipazione quindi col finanziamento di microprogetti per i nuovi quartieri approvazione del bilancio di previsione impegno concreto per abbassare l'imposizione fiscale questo ci ha fatto veramente ridere noi abbiamo chiesto ad ogni bilancio un'attenzione particolare verso quelle che potevano essere le fasce più debili verso un piccolo passaggio che poteva essere anche significativo di ridurre un'imposizione fiscale chiaramente non solo non è stata ridotta ma le liquidi sono state mantenute vicino al limite massimo e soprattutto non è stata posta in essere tutta quella serie di attività che prevede l'utilizzo di fondi comunali soltanto per iniziative quelle che devono essere in qualche maniera fisse e obbligatorie e reperire fondi attraverso finanziamenti sovracomunali questa amministrazione insomma chiaramente con le difficoltà che ha trovato nel reperire risorse sovracomunali per il suo scollegamento rispetto a quelli che sono gli enti sovracomunali ha impegnato e continuano a impegnare i bilanci comunali per opere che potrebbero essere finanziate con fondi appunto sovracomunali noi abbiamo detto che spese che riguardano amministrazioni culturali, sportive e turistiche vanno finanziate soprattutto con fondi privati e fondi sovracomunali non incidendo sui cittadini mentre invece assistiamo a spese che si aggirano circa 200 mila euro l'anno somme mai spese dalle precedenti amministrazioni e che incidono sul bilancio comunale parlare di riduzione dell'imposizione fiscale con questo atteggiamento ci è sembrato un po' ridicolo poi insomma l'altro punto è quello relativo al commercio al turismo, al demanio si è parlato insomma anche di un nuovo regolamento dell'area Prodi in collaborazione con l'ufficio Locamare insomma tante questioni relativamente al turismo e al commercio sì, su questo aspetto noi tante volte abbiamo sottolineato come la precedente amministrazione aveva lasciato un piano di Magnala ad esempio che necessitava eventualmente di soldi e alcuni ritocchi che poteva essere portato in approvazione nel 2012 è stato portato in approvazione invece nel 2015 con enorme ritardo per tutto quello che è il comparto turistico facendo delle modifiche che non hanno portato nessun valore raggiunto rispetto a quel piano perché la struttura del piano è rimasta con alcune riduzioni e alcuni interventi che hanno portato dei problemi hanno portato attività a non avere ancora una concessione rispetto a quella che era la nostra previsione hanno portato alla previsione di bandi appesantendo il lavoro degli uffici che non erano necessari e tutta una serie di operazioni che noi pensiamo abbiano appesantito la burocrazia abbiano appesantito le tempistiche abbiano in qualche maniera ritardato quello che poteva essere uno sviluppo noi non facciamo una posizione che si limita a dire no questo non va bene ma ogni volta pensiamo di poter dare quella che è la nostra proposta sostanzialmente noi ripetiamo qualcosa di gioco cioè quello che avevamo messo nel programma elettorale poi c'è la questione legata all'ambiente sono tante veramente le questioni legate all'ambiente dovremmo fare una puntata a parte partiamo innanzitutto comunque dalla problematica legata all'erosione per esempio che è una problematica importante che vive Martinsicuro sì insomma sull'erosione noi partiamo da alcuni dati fortunatamente quello che abbiamo contestato anche su questo punto è quello che diciamo sempre bisogna avere semplicemente l'onestà intellettuale di riconoscere il lavoro che ci si è trovati sapete ricorderete tutti le polemiche in campagna elettorale sui fondi dell'erosione negati da tutte le altre liste che erano in competizione con la lista di sottoscritto poi il tempo è stato con l'Antuomo e fortunatamente dico io quelle risorse c'erano grazie a quelle risorse trovate dall'amministrazione in cui facevo parte dall'amministrazione regionale precedente quindi grazie a un lavoro veramente importante della politica perché poi quando la politica dà dei risultati è giusto farlo sapere alla gente non soltanto parlare di politica in chiave negativa noi dicevamo che quello era il risultato di una seria programmazione della politica che funziona chi entrava non doveva cominciare ad occuparsi di altro invece chi è entrato si è preoccupato soprattutto di fare propria un'iniziativa che era degli altri poi fortunatamente anche se con un po' di ritardo la regione ha portato avanti l'appalto i lavori sono stati eseguiti alcuni risultati ci sono ma chiaramente i risultati maggiori li avremo nei prossimi anni siamo in attesa di un ripascimento da effettuare con i ribassi d'asta di quel progetto di erosione che non prevedeva soltanto il comune di Martinsicuro ma altre due località della costa abruzzese per completare quest'itere ma non solo questo perché unitamente alla presente amministrazione regionale siamo riusciti a programmare un intervento anche su Villarosa Sud quindi a confine con Albadriatica utilizzando dei fondi Ex-Pain risaliamo al 2013 però lì c'è un blocco relativo anche al fatto che Albadriatica sì, io mi auguro che si superi veramente questo problema abbia messo il veto io non conosco bene solo che Albadriatica ne sono problematiche spero però che visto la difficoltà con cui siamo riusciti io dico siamo perché poi l'amministrazione a me mi critica ma lì si rischia di andare muro contro muro perché Albadriatica sì ma sarebbe sciocco muro contro muro vuol dire rinunciare a dei soldi di cui beneficerebbe non solo Villarosa ma soprattutto Albadriatica parliamo di due amministrazioni rette da persone di buon senso mi auguro e sono convinto e quindi dovranno trovare la giusta sintesi affinché questo intervento si faccia e quindi se si fa l'intervento strutturale a Villarosa ed è previsto mai un ripascimento forte da Albadriatica trovassero la formula per fare un intervento coordinato tra i due comuni ma non si perdano delle risorse ecco, io non vorrei che noi ci mettiamo a litigare su chi ha preso questi finanziamenti ci sono le carte e le tempistiche su chi ha ottenuto questi finanziamenti che sono dovuti diciamo per un stagio intellettuale stanziato dalla precedente amministrazione regionale insomma io ho partecipato ma non importa chi ha partecipato effettivamente importa che adesso queste risorse vengano spese però questo deve essere da insegnamento chi in campagna elettorale dice delle bugie non è onesto intellettualmente alla gente bisogna dire la verità c'era una programmazione di cui questa amministrazione comunale sta beneficiando ora io sono ancora in attesa di vedere qual è la programmazione di questa amministrazione che lascerà a futuro questo è il vero dato che riguarda Martinsicuro che mi preoccupa profondamente non quello che si sta facendo che non serve a nulla a dire di chi è il merito ci sono le carte io in un sito di una mia associazione qui faccio parte www.progettocomuno.eu pubblico tutti gli atti le persone che hanno volontà se le vanno a leggere e decidono e vedono effettivamente cosa ha fatto qualcuno e cosa non ha fatto l'altro cosa importante però che a queste iniziative si dia un proseguo titolo della trasmissione è la città inattiva con il punto di domanda ovviamente c'è anche un gioco di parole perché in queste settimane ripeto avete criticato insieme all'altro consigliere Tom Molini di Martin Rosa è appunto il gruppo la maggioranza insomma città attiva a cui fa riferimento il sindaco Camaioni da qui appunto il titolo ma città inattiva città attiva in questo caso è poco trasparente? beh noi abbiamo più volte sollevato questo problema c'è una gestione personalistica del nostro comune il sconvolgimento è di facciata nei confronti magari soltanto di un gruppo di persone insomma il lavoro dei consiglieri spesso è difficile perché non vengono messi in condizione di poter operare soprattutto di poter dare un contributo come ci si prova a dare un contributo la risposta è insomma che noi facciamo politica facciamo struzionismo e quant'altro agli atti invece ci sono decine e decine di proposte fatte in consiglio su come gestire chiaramente le proposte non sono uguali a quelle dell'amministrazione comunale però insomma da un confronto potrebbe nascere qualcosa di positivo lo abbiamo detto per quanto riguarda il coinvolgimento dell'associazione dei quartieri su un progetto della sicurezza presentato nel lontano 2012 respinto più volte ma che noi continuiamo a ripresentare perché le risposte che l'amministrazione ha dato ci sembrano insoddisfacenti e ripeto il fatto di rispondere al sottoscritto accusandomi sempre di aver fatto parte di una vecchia precedente amministrazione che ha fatto poco è sempre il solito disco incantato che chiaramente viene ripetuto e che conferma come non ci siano veramente argomenti per dire insomma in qualche maniera fino adesso la nostra attività non ha portato determinati risultati e proviamo a cambiare ecco lo stimolo attraverso quello che abbiamo scritto nei comunicati è questo cioè le cose non vanno non vanno come dovrebbero andare non vogliamo dare la colpa a tutta l'amministrazione perché Martinsicuro ha tante problematiche difficili da risolvere ma cerchiamo di farlo insieme e proviamo a cambiare passo restiamo però nei temi ambientali poi parleremo della sicurezza si parla dell'inaugurazione parco zona anfiteatro Martinsicuro entro il mese di aprile giudicazione e conclusione dei lavori parco del mare a Villa Rosa insomma completamento lavori di cimiteri di Martinsicuro e Villa Rosa qui si entra anche nella questione dei lavori pubblici eccetera eccetera beh sì e poi parleremo anche del ponte in legno sì sì la tematica ambientale è un po' un po' più ampia anche su questo punto sembra il dato più negativo sì nel nostro comune anche sulla questione molto importante appunto di istrattività produttive della VECO della VECO investe moltissimo il discorso ambientale è molto più serio rispetto alle altre questioni non è che la tematica ambientale può essere legata a una recinzione in un parco giochi come è stato fatto o a quello che si vorrà fare questo è un aspetto che riguarda la valorizzazione di determinate aree insomma e anche su questo io ritengo che non sia sufficiente recintare un'area per poi insomma chi vive a Martinsicuro la vede in che condizioni si trova per poter incentivare le persone ad andare a visitare le nostre aree pubbliche noi dobbiamo fare una politica che riporti la gente a vivere le nostre aree pubbliche e sicuramente non è recintando un'area che è quell'area si vede di popola di gente di persone e di famiglie quindi benvenga la recinzione che può essere sicuramente un deterrente per chi sporca determinate aree ma non basta e non è sufficiente non è che valorizziamo l'ambiente recintando alcune aree sul tema dell'ambiente a livello generale chiaramente invece dovremmo fare una riflessione su quelle che sono le problematiche che in questi ultimi anni stanno in qualche maniera venendo di più alla luce però questo non riguarda solo il discorso ambientale riguarda la situazione del tessuto produttivo e quindi un lavoro importante per vedere come sostenere anche le aziende che si trovano comunque un contesto ormai urbanizzato qui entriamo proprio nella vicenda della VECO con questa problematica appunto lavorativa perché l'azienda è in pratica chiusa bloccata perché manca questa autorizzazione di impatto ambientale tra l'altro sabato sabato è ripresente anche alla manifestazione dei lavoratori l'ennesima presidio dei lavoratori in via Roma e poi insomma dall'azienda insomma fino a piazza Cavour hanno partecipato a questo corteo della CGL della CGL è ripresente hai visto c'è stata anche una solidarietà da parte di alcuni commercianti che hanno tenuto le saracinesche abbassate quella è una problematica di lavoro però è una problematica legata all'ambiente assolutamente sì da questo punto di vista la politica non dovrebbe fare l'errore innanzitutto di strumentalizzare una vicenda veramente molto delicata come spesso può accadere e soprattutto almeno in questa fase togliere di mezzo quella sterile polemica su quale politica ha creato maggior danni alla situazione veco rispetto all'ambiente o quant'altro si sono fatte tante confusioni tra autorizzazioni acustiche e autorizzazioni per quanto riguarda le emissioni di fumi la vicenda veco nasce sostanzialmente da un'ordinanza di chiusura da parte del comune sul discorso dell'impatto acustico insomma un piano acustico che non era perfettamente vigente che poi a seguito di un'ordinanza del TAR insomma poi adesso a breve si arriverà all'approvazione definitiva di un piano acustico la politica dovrebbe invece essere attenta nel frattempo che gli uffici ci auguriamo a giorni completino il loro iter autorizzativo dell'azienda pensare a futuro di questa azienda all'interno del nostro tessuto produttivo come di altre aziende simili a quelle quante colpe hanno le amministrazioni in questo caso perché non parliamo di questa amministrazione ma guardate io penso che dobbiamo tornare indietro forse alle precedenti amministrazioni ma guarda io sinceramente ho amministrato cinque anni la responsabilità se c'è stata è stata quella di non pensare l'azienda è nata prima anche però su questo argomento ho sentito tante chiacchiere insomma e molte veramente infondate è vero sì che certe autorizzazioni edilizie sono state date successivamente che la vega già c'era io però non ci posso entrare uno specifico non conosco i contenuti della licenza se poteva essere dato o meno quant'altro la responsabilità di tutta l'amministrazione secondo me è stata quella di non pensare che mano a mano che gli anni passavano che il mare avanzava perché decine e decine di anni fa la spiaggia era più lunga di 5-600 metri forse un chilometro in più rispetto a quella di adesso quindi la vega era molto più lontana al lungomare rispetto a come è adesso non si è pensato a una strategia o di delocalizzazione delle imprese e dell'industria nella salvaguardia chiaramente di quelle che sono le manovalanze quindi di quelle che sono i lavoratori quindi il numero di impiegati quindi la strategia è stata completamente sbagliata secondo me sì assolutamente quindi io chiaramente come faccio sempre posso assumere la mia responsabilità dei 5 anni in cui ci sono stato però fammi dire una cosa spesso invece sento che c'è quasi la volontà di attribuire quasi tutta la colpa la precedente amministrazione quella di cui facevo parte però qualcuno mi dovrebbe spiegare perché e soprattutto che utilità diamo ai lavoratori dando la colpa ad un sindaco oppure i precedenti sindaci io dico soltanto gli uffici regionali soprattutto lavorino come stanno lavorando per riautorizzare l'impresa se quelle che sono le mie notizie ci sono tutti presposti per poter riaprire nella salvaguardia sì del lavoro ma della sicurezza ambientale ma non solo di chi sta vicino ma dei lavoratori stessi ma dopo di che la politica faccia quello forse che non ha fatto prima quindi si impegni già da adesso unitamente all'azienda per i rifondi unitamente alla regione Abruzzo anche per cercare in futuro di delocalizzare l'impresa salvaguardando i lavoratori le responsabilità ci sono state sono state da questo punto di vista non rispetto alle emissioni siano acustiche che di fumi rispetto ai quali responsabilità degli amministratori comunali non ne vedo assolutamente tu hai parlato con qualche lavoratore poi sabato sì sì con diversi lavoratori quali chiaramente sono stufi e stanchi non stufi e stanchi perché per troppo tempo gli è stato detto che insomma il mese dopo avrebbero riaperto che una volta c'era un problema e poi subito se ne presentava un altro la poca chiarezza la poca chiarezza una settimana decisiva una settimana decisiva quello che abbiamo chiesto tutti quanti dal sindaco stesso io ero rappresentante della provincia di Teramo cioè chiudiamo l'iter si dica una volta per tutte se questa azienda può riprendere a lavorare oppure si dica subito non può riprendere più al lavoro non illudiamo più nessuno l'impresa fra la sua strada i lavoratori chiaramente che hanno già avviato la procedura della mobilità volontaria o comunque sia la procedura di licenziamento ricordiamo 70 70 lavoratori è una realtà importantissima insomma di cui non ci possiamo ricordare soltanto sotto campagna elettorale questo è il problema probabilmente della politica ripeto di adesso e di prima a proposito di campagna elettorale tra un anno si vota sì poco più di un anno sì salvo tra un anno e mezzo salvo imprevisti poi dovremmo anche definire chissà il prossimo anno se Massimo Vagnoni riproverà il secondo chissà vedremo troverà a ricandidarsi di nuovo comunque rimanendo in tema ambientale non soltanto la veico insomma in questi mesi sono anche arrivati i risultati dei dati scioccanti dell'arta risultati del monitoraggio delle centraline insomma non se la passa bene rimanendo insomma nella zona industriale Martinsicuro per quanto riguarda l'ambiente premessa sì io non sono un tecnico ho letto pure io i dati sono dati alti mi dicono chiaramente che sono dati comunque al di sotto di quelle che sono le soglie di legge ma questo chiaramente deve essere un campanello d'allarme importante un campanello d'allarme che dovrebbe in qualche maniera ecco attivare tutte le istituzioni per far sì che la situazione migliori da profano dico che la cosa più importante da fare sarà quella di fare in modo che tutte le aziende che possano essere anche potenzialmente fonti di inquinamento vengano messe nelle condizioni di fare quegli investimenti per ridurre al massimo l'impatto ambientale questa deve essere la strada quindi le istituzioni mette a disposizione anche dei privati per cercare insieme finanziamenti per poter migliorare l'efficienza delle varie imprese affinché ripeto altrimenti questa volta è stata la volta della VECO poi potrà capitare un'altra azienda e la soluzione a tutto questo non è chiudere le aziende perché se chiudiamo tutte le aziende il problema forse non sarà più ambientale forse ma avremo comunque un problema di natura sociale grande grande e in una valvibrata che conosciamo tutti con le problematiche dell'occupazione così elevate probabilmente dovremmo fare tutti qualcosa in più certo poi tra l'altro c'è anche la questione dell'ex fornace con l'arta che è notificato al comune la rimozione della mianda io non conosco molto bene dal punto di vista burocratico noi adesso andiamo in pubblicità poi rientriamo c'è un servizio proprio che introduce l'argomento parleremo anche di questo poi avremo altre questioni da affrontare tra cui anche una l'hai sollecitata prima che è quella della sicurezza andiamo in pubblicità eccoci qui dopo la pausa pubblicitaria allora vediamoci il servizio del collega a Zarroli appunto sulla vicenda dell'area ex fornace appunto fornace fiore a Villa Rosa vediamo l'amianto ancora presente nell'area dell'ex fornace fiore a Villa Rosa spazio che un paio di lustri fa avrebbe dovuto ospitare il centro divertimenti Spassopoli dovrà essere rimosso dal comune di Martinsicuro è quanto recita una nota dell'arta di Teramo che ha notificato nei giorni scorsi due diversi provvedimenti al comune e non solo tra i destinatari c'è anche la nuova proprietà della vasta area che costeggia la statale 16 a Villa Rosa la comunicazione dell'arta è figlia anche di un recente esposto presentato da un cittadino nel mese di dicembre che ha segnalato come d'altro canto era già noto la presenza di amianto interrato in quell'area alla luce delle verifiche fatte poi l'agenzia regionale per la tutela ambientale ha dato comunicazione ai vari enti anche alla procura del fatto che la luce di una norma regionale la legge numero 45 del 2007 ha disposto che deve essere il comune riverasco ad occuparsi di bonificare l'area e rientrante tra i siti contaminati vista la presenza di amianto interrato va detto che lo scorso mese di ottobre il sindaco di Martinsicuro Paolo Camaioni anche allora sulla base di una relazione dell'arta aveva firmato una specifica ordinanza a carico dei curatori fallimentari dell'ex fornace fiore per provvedere alla bonifica dello spazio operazione a quanto pare disattesa ragione per la quale ora dovrà essere lente a farsene carico fatta salvo ovviamente la possibilità di identificare il responsabile dell'abbandono e accertare che la cosa non sia debitabile ai proprietari ex a questo punto visto che il tutto era compreso in una procedura fallimentare per dolo o colpa grave la comunicazione dell'arta ha ovviamente spiazzato l'amministrazione Camaioni impegnata ora nelle verifiche del caso fermo restando che allo stato attuale non sembrano esserci altre strade se non quella di provvedere a un intervento di bonifica nei termini previsti insomma questa è una vicenda che certo non parte nel 2016 o nel 2015 da lontano ma comunque è un'altra questione importante che andrà affrontata una di quelle che rischia di diventare una bomba ecologica di un territorio che ha alcune criticità ancora in corso rischia anche di diventare altro materiale per la futura campagna elettorale sì probabilmente sì questo purtroppo sarebbe da evitare mi auguro che l'amministrazione comunale si attivi veramente già da adesso per fare tutte le attività che possano essere necessarie quindi se effettivamente dovrà procedere allo smaltimento procederà e poi eventualmente abbia subito l'azione per il recupero di queste somme nei confronti del fallimento eventualmente rimanendo in tema di ambiente c'era anche la vicenda legata al ponte ciclopedonale vabbè una questione legata anche alla viabilità ciclopedonale è arrivato il finanziamento almeno così ha dichiarato il governatore D'Alfonso per il rifacimento del ponte che attualmente è chiuso tra Martinsicuro e Albadriati che ai lavori dovrebbero insomma essere effettuati a breve e dovrebbero concludersi entro l'estate non ci credi molto io sinceramente sono contento però io ho sentito di questi finanziamenti questi 400 mila euro circa 400 mila euro quindi insomma chiaramente sono contento i miei dubbi che il lavoro strutturale si possa fare entro l'estate perché da notizie che ho probabilmente insomma il progetto che ancora non c'è quindi lo dovranno fare effettuare quindi mi auguro che si facciano prima però dalle informazioni vedendo le immagini credo che le amministrazioni siano impegnate in questo momento a forse a programmare un intervento tampone per questa stagione per riaprire eventualmente poi successivamente fare l'intervento strutturale sicuramente una bella notizia a proposito comunque di programmazione e di interventi rimanendo in tema di piste ciclabili tra l'altro ecco stiamo vedendo il ponte abbiamo anche visto la pista ciclabile quella di Albatriati eccolo qui proprio il bike to coast realizzazione del tratto a Martinsicuro Martinsicuro tramite la stazione unica di committenza Brunciteramo è stato fatto agitare la nazione provvisore e poi la definitiva con determina del comune e quindi pensiamo che nei mesi prossimi si provvederà a farlo noi abbiamo avuto modo nei mesi scorsi a fare degli appunti sul tipologia del tracciato ricordando semplicemente una cosa che poi chiaramente non ha fatto piacere ma non ne capisco il motivo questo è un finanziamento che abbiamo ottenuto su istanza dalla provincia di Terramo sempre di concerto con la precedente amministrazione regionale che aveva una logica una logica per cui bisognava iniziare su qualche tratto che necessitava di intervento per poi a step procedere invece è stata sfarmata tutta la somma con i 450 mila euro ottenuti più 200 mila del comune su tutti i 7 chilometri di costa con interventi che a mio avviso non sono come dovevano essere comunque rappresenta un buon inizio abbiamo chiesto all'amministrazione chiaramente abbiamo sollevato delle problematiche perché ci sono anche dei pareri condizionati su quel progetto da parte dei vigili urbani che comunque condizionano il parere ad un piano urbano del traffico per questo tratto prevederà dei sensi unici nuovi da mettere che dovranno coordinarsi con la priorità generale cioè tutta una serie di aspetti che in qualche maniera andranno coordinati comunque ripeto un intervento pubblico sembra un fatto positivo e lo ribadisco mille volte a prescindere da chi ha ottenuto il finanziamento o meno è sterile continuare ancora a dire insomma a rinfacciarsi le responsabilità io ho fatto la mia parte facendo l'istanza come provincia di Terno per ottenere l'istanza raccolta a Regione Abruzzo questa amministrazione provvede ad eseguire i lavori non è importante l'importante però che si facciano in maniera coordinata soprattutto efficace ed efficiente per dare al nostro lungomare insomma un'appetibilità maggiore a proposito di finanziamenti parliamo del cinema Ambra è un argomento su cui noi abbiamo detto veramente tanto lì siamo sempre le solite il finanziamento con la fondazione chiaramente è andato perso purtroppo l'amministrazione comunale adesso sta lavorando su una nuova idea progettuale c'è stato un incontro noi abbiamo richiesto qualche settimana fa un consiglio aperto su questo tema che dovrà svolgersi a breve mi auguro chiedendo all'amministrazione chiaramente di non provvedere intanto alla demolizione senza una contestuale previsione di nuova realizzazione abbiamo chiesto tempi precisi soprattutto abbiamo chiesto un impegno importante all'amministrazione se ci credete veramente mettete in questa annualità una quota di mutuo importante non al di sotto 500 mila euro per questa struttura questo vuol dire crederci vuol dire avere le premesse per rifare una nuova richiesta di finanziamento che sia la fondazione che sia la regione Abruzzo o altre opportunità di finanziamento se ci si crede veramente lo si fa se invece si vorrà utilizzare il cinema ambra come ennesimo argomento di campagna elettorale beh su questo non ci sto e non ci entro nemmeno in questa discussione sterile ecco qui stiamo vedendo proprio le immagini è una vicenda insomma questa che viene da lontano uno dei motivi a cui fu bloccato il progetto è il costo eccessivo i progetti su cui stanno lavorando adesso hanno più o meno lo stesso costo i contenuti sono gli stessi cambia chiaramente la facciata che magari quella del progetto precedente non piaceva ma è di un'assurdità enorme forse caso unico in Italia che un'opera comunque in parte finanziata un finanziamento importante 450 mila euro dalla fondazione Tercas andate a verificare lo storico dei finanziamenti della fondazione Tercas e vedete quanti comuni hanno beneficiato di quel tipo di contributo averli persi penso che sia veramente una macchia nera per questa amministrazione beh è uno poi degli edifici storici insomma ma soprattutto rappresenta l'unico strumento per far rinascere un centro del paese noi abbiamo bisogno di riportare la gente al centro bisogna dargli un motivo per andarci altrimenti le piazze muoiono se nelle piazze non ci portiamo qualcosa non ci portiamo attività affinché la gente con le famiglie possono andarci le piazze e la Repubblica muoiono uno dei problemi insomma più sentiti a Martinsicuro comunque all'interno dell'ambiente è quello legato alla sicurezza sì e voi avete criticato anche gli obiettivi di questa amministrazione legati alla sicurezza più che altro abbiamo fatto una constatazione rispetto a chi si è rappresentato come risolutore di ogni tipo di problema chi aveva accusato tutte le precedenti amministrazioni di aver fatto nulla abbiamo fotografato la situazione esistente è una situazione comunque preoccupante io ho sempre chiarito io non do una responsabilità a questa amministrazione per il problema che c'è io gli ripeto quello che gli dico da sempre mettiamoci seduti lavoriamo su un progetto strutturale che coinvolga associazioni quartieri ma all'interno di un'idea che sia strutturale non sia tampone non sia solo a tanta spot sulla sicurezza non si può fare campagne elettorali non si possono fare spot che stiano soltanto per prendere quel momento di consenso bisogna fare un ragionamento serio affinché noi istituzioni noi politiche diamo una mano alla forza dell'ordine e facciamo quello che possiamo fare una cosa è certa il cittadino di Martinsicuro sicuramente è una percezione della sicurezza che è diversa magari da altre da cittadini di altre località vibratiane probabilmente forse anche legata magari anche al gran numero di etnie che ci sono in città io dico sempre un po' esageriamo tutti quanti questa etichetta di Martinsicuro Martinsicuro ha tante problematiche ma non penso che ce ne abbia tante di più rispetto ad altre località non vicine noi perché siamo bravi a piangere senza osso spesso ecco perché la nostra istanza non è stata quella di parlare male di Martinsicuro a prescindere abbiamo detto le cose non vanno e se la risposta a quello che abbiamo detto è il comunicato dell'amministrazione in cui ci dice ci riferisce i dati dei reati che sono diminuiti beh a me si cascano le braccia perché vuol dire che ancora non abbiamo capito nulla la percezione di cui parlavi tu è molto inferiore rispetto ai dati stessi a cui io credo però io non sono un tecnico penso che molto dipenda da fatto che la gente non genuncia neanche più nel 2015 c'è stato l'ultimo omicidio insomma Martinsicuro un omicidio tizi tra l'altro ma poi un aumento di furti nelle zone industriali nelle varie zone del paese ecco perché noi non dobbiamo abbassare la guardia non nasconderci dietro numeri quindi assumiamoci tutte le nostre responsabilità e proviamo a dare una risposta concreta per questo ne avevamo chiesto mi scusi un attimo a giugno scorso un consiglio aperto da tenersi nell'area del quartiere Tronto proprio come dimostrativa per dire noi istituzione siamo qui ecco non è stata accettata questa richiesta quindi capite insomma se poi non si fa nulla nemmeno puoi pensare che ti diciamo che stai facendo bene la vicina alba la vicina alba ultimamente ha gli stessi problemi legati magari a una sorta di recrudescenza di furti anche la percezione di insicurezza che vivono che stanno vivendo i cittadini stanno attuando comunque stanno cercando di risolvere anche il problema con l'utilizzo anche delle videosorveglianze quali potrebbero essere queste risposte questi lavori concreti da portare avanti sui discorsi videosorveglianze c'è già ci sono anche delle telecamere che già dovrebbero essere funzionanti ma non so se funzionano perfettamente c'è un progetto dell'amministrazione Camaioni questo sì all'interno pure del progetto Mitol che prevede l'installazione di ulteriori telecamere e queste sicuramente saranno deterrenti e sono importanti ma insieme a questo bisogna pensare a qualcosa di diverso a mio avviso noi abbiamo detto che due sono le direzioni innanzitutto valorizzare le aree pubbliche più noi le valorizziamo e ci facciamo investimenti più riportiamo la gente a vivere più secondo me la delinquenza si allontana secondo probabilmente vanno aiutate le forze dell'ordine quindi provare a mettere insieme un po' di vigilanza privata metterci risorse coinvolgere le associazioni e i quartieri in situazioni che possono vedere più gente in giro non è facile ma non aver accettato nemmeno un'instaurazione di questa commissione che noi avevamo chiesto vuol dire semplicemente essere se ne fregato di quelle che può essere un'istanza veniva dei consiglieri di minoranza ma che crediamo poteva essere oggetto di discussione ma noi chiaramente la ripresenteremo a breve certo queste tematiche legate allo sviluppo insomma la rivalizzazione e la riqualificazione del centro storico insomma di cui stai parlando poi si lega anche a un'altra tematica quella del sociale questi servizi sociali sulle scuole assolutamente sì chiaramente quello è un lavoro importantissimo da fare sulle scuole sono due gli aspetti non sono gli aspetti strutturali le nostre scuole necessitano ulteriormente di manutenzione di manutenzione di interventi anche qui ripeto purtroppo abbiamo perso tante occasioni per avere altri finanziamenti l'amministrazione ha due progetti in campo per intervenire su un paio di scuole però ripeto anche su questo aspetto manca una visione di carattere generale e strutturale che riguardano che non si limiti all'intervento oggi di una scuola o oggi di un'altra ma che metta in cantiere da qui a dieci anni la valorizzazione di tutti i nostri presi scolastici per la sicurezza dei ragazzi innanzitutto e poi chiaramente un lavoro nelle scuole dal punto di vista sociale per una migliore integrazione dicevamo prima la presenza di tante etnie crea sicuramente un ambiente difficile qualche problematica sociale magari senza dubbi senza dubbi probabilmente noi non siamo stati pronti nel corso degli anni per affrontare questo problema certo questa città amministrata ricordiamo da quasi da quattro anni tra un anno e mezzo abbiamo detto prima si vota una questione politica c'è comunque è legata ad un nuovo avvicendamento intanto in maggioranza che è il terzo in poco tempo sì l'ennesima sorroga di questa mia sorroga sì perché chiaramente denota quello che noi diciamo la condivisione avvicendamento in tre anni e otto mesi quasi quattro anni di mandato che succede in maggioranza è segno evidente che la condivisione è tra poche persone poche persone che pensano di portare avanti il comune come se fosse un condominio loro e quindi in qualche maniera per cui poi chi non gli sta bene può andare via dico questo perché fu la stessa critica che venne fatta a noi la precedente amministrazione quando ci furono effettivamente dei problemi per cui insomma poi io mi dimisi per lasciare posto pure a qualche altro e riprendo le stesse quelle che era effettivamente io lo dissi chiaramente che era un problema di maggioranza che poi insomma risolvevo in questa maniera per andare avanti c'è anche adesso in questo caso Sandro Ventresca prenderebbe il posto di Roberto Prosperi è entrato in un atto fa dopo le dimissioni di un altro consigliere Stefano Ciapanna sì precedentemente poi le dimissioni di Sandro De Angelis ci sono state silvano Lopacchini subentrò al dimissionario Sandro De Angelis ex delegato alla sicurezza insomma è evidente come quello che potesse il loro disegno iniziale insomma piano piano è venuto meno al di là di chi è entrato nel rispetto massimo di chi entrerà adesso sono una bravissima persona che io conosco personalmente però quello che si percepisce è quella di un'attività politica amministrativa che tende soltanto a mantenere il posto per un altro anno e mezzo perché altrimenti dal punto di vista di discussione veramente politica con la P in maiuscola sulle grosse tematiche non ce n'è non c'è condivisione in nulla quindi ripeto nonostante le aperture più volte fatte da parte delle minoranze e il fatto che poi un altro consigliere di minoranza giovane tra l'altro molto giovane che doveva essere una sorta di di soggetto doveva essere portato avanti anche dall'amministrazione in qualche maniera non so per quale ragione perché non è dato a sapere non si è più presentato i consigli comunali adesso lo sostituiscono con un altro componente segno evidente insomma che la sfaldatura del progetto iniziale insomma è chiara è una città inattiva beh è una città che non ha dato non ha le risposte che meritava e soprattutto rispetto alle attese rispetto a quelle che erano i programmi a me non mi sorprende perché io lo dissi dall'inizio una compagine che si presenta senza un programma elettorale ma soltanto parlando male della propria città parlando male degli altri senza una propria idea si è trovato di fronte poi a tante questioni fortunatamente dico io c'era una programmazione in questo caso eravate voi l'amministrazione uscente e io mi sono preso tante responsabilità perché l'amministrazione uscente noi non avevamo fatto tante cose che loro avrebbero dovuto fare fortunatamente avevamo programmato alcuni interventi delle scuole le piste ciclabili l'erosione e tanti altri aspetti che loro stanno di cui loro stanno soffruendo parlo degli interventi per i pescatori e quant'altro e tutto quello dovevamo fare invece per programmare nuove cose insomma non le hanno fatte io ho chiesto fatemi sapere che cosa state facendo la risposta è quella certe cose sono nella nostra mente non è che le dobbiamo per forza dire fatecelo sapere perché poi tra un anno e mezzo io mi auguro chiaramente insomma che ci sia un'altra amministrazione tra un anno e mezzo infatti si avvicina infatti sì ma la cosa importante non è lontanissima no la cosa importante è che qui a Martinsicolo dobbiamo capire noi dobbiamo lavorare per il futuro a prescindere di chi c'è ecco perché è importante programmare portare i vestiti nel futuro e non solo in se stessi tu come stai programmando questo anno e mezzo ma io sto programmando come ho fatto in questi tre anni e mezzo sono passate cercando di sviluppare delle idee sulla base di quello che è il quotidiano di quelle che sono state le criticità passate di quelle che sono state gli aspetti della mia attività amministrativa che non sono andata facendo tesoro degli errori non autoproclamandomi come fanno loro come migliori in assoluto io non ho mai detto che sei migliore in assoluto perché non lo sono stato penso di aver fatto qualcosa per il mio paese ho continuato a farlo a consigliere provinciale e sto sviluppando insieme a tanti altri amici delle idee da poter presentare la prossima campagna elettorale ma non con il suo discorso se farà il candidato sindaco se ti candiderai o no a me interessa più il progetto è che soprattutto raccogliere la sfida importante sai qual è? è quella di riportare i giovani e tanta gente ad amare la politica e ad occuparsi del proprio paese perché a Martinsicur adesso sempre di più la gente si è distaccata dall'attività politica non viene ai consigli comunali non frequenta non si informa sulle vere problematiche e ci si limita a lamentarsi e la sfida è quella è quella di riportare tanta gente ad occuparsi del proprio paese su questo sono impegnato io in questo anno e mezzo questo anno e mezzo che però potresti anche nuovo candidarti da vedere insomma ripeto non è una mia priorità io lo dico sinceramente non è una mia priorità prioritario adesso è creare arrivare magari a creare delle alleanze le premesse affinché si possono unire non simboli di partito ma unire le persone all'interno di un'idea di un progetto che forse a questo paese un progetto comune esatto questo era il mio vecchio palino nel 2012 con le opposizioni con il resto dell'opposizione come va? noi collaboriamo continuamente nell'interesse del comune poi abbiamo visioni io e il consigliere Adunio Tom Molini insomma lavoriamo in simbiosi quasi costantemente con gli altri ci sentiamo su diversi temi con il PD ci sentiamo su diversi temi quindi su diverse strategie comuni da portare avanti poi non su tutti i temi chiaramente abbiamo la stessa idea però penso che tra persone intelligenti si possa in qualche maniera trovare la giusta sintesi nell'interesse della città che 2016 sarà per Massimo Vagnoni e per Martinsicuro? beh per Martinsicuro soprattutto mi auguro che sia un 2016 nel quale si comincino a dare delle risposte più concrete a quelle che sono le esigenze della città tanti sono gli aspetti che meriteranno un'attenzione a partire dall'aspetto turistico il nostro comune per esempio quest'anno non ha presentato richieste per ottenere la bandiera blu e anche quest'anno si freggerà dalla bandiera blu no e ripeto io non mi sono tanto fissato su questa cosa quello che ritengo problematico è che ancora non si intervenga in maniera strutturale per eliminare il problema e quindi ci si limi soltanto a che per qualche caso migliorino le acque di balnazione per poi richiederla mancano gli interventi strutturali non si pensa praticamente a 5, 10, 15 anni ecco io mi auguro che questo comune inizi già da adesso ma purtroppo non sono tanto ottimista a pensare non all'elezione del 2017 ma a pensare veramente al futuro della città nei tanti aspetti che meritano attenzione va bene grazie a Massimo Vagnoni consigliere comunale a Martinsicuro per il progetto comune nonché consigliere alla provincia di Teramo oggi non abbiamo parlato di questioni legate alla provincia ce ne saranno occasioni perché giustamente erano tante le tematiche sul quale porre l'attenzione appunto per la città di Martinsicuro grazie ancora di essere stato qui con noi noi con 45 giri invece ci ritroveremo domani per un nuovo appuntamento arrivederci a presto